5, 5 cripto che dovremmo tenere sotto stretta osservazione per l'eventuale prossimo rimbalzo dei mercati cripto. Oggi è un video dedicato solo e esclusivamente alle cripto, non bitcoin, è dedicato a quelle che stanno dampando insieme a tutto il mercato, come da aspettative in questa fase. Guardiamo Ethereum per esempio, ragazzi, che ha mollato anche lei proprio nella giornata di ieri. Quali sono però le 5 cripto che eventualmente su un prossimo rimbalzo potremmo tenere sotto stretta osservazione perché magari se invertono il trend poi fanno dei bei risultati. Oggi andiamo a vedere queste 5 cripto, analisi tecnica, analisi ciclica. Le ho scelte in base all'analisi ciclica, alla situazione ciclica, però ci sono dei dettagli che vanno assolutamente approfonditi e sono importantissimi da controllare, ragazzi, perché in realtà c'è una duplicità su queste cripto e quindi solo e esclusivamente in determinati casi potranno dare soddisfazioni. Perciò le andiamo a guardare, ma guardiamo anche assolutamente i rischi delle stesse criptovalute. Prima di andare avanti lo dobbiamo tirare su perché la volta scorsa, come vi avevo fatto vedere, il risultato non era buono, quindi dobbiamo fare il lancio sul bitcoin, dobbiamo fare il lancio del bitcoin, ragazzi, e questa volta... Spengo tutto, dove? Niente, non ho, niente, non l'ho lanciato il bitcoin per oggi, va bene ragazzi, allora qualche altro giorno di sofferenza. Vediamo un po' cosa succederà. Andiamo subito a vedere quelle che sono le 5 cripto, iniziando dalla prima, la regina Ethereum, che sta facendo un po' la sua fase di bassista di questo ciclo trimestrale. Allora Ethereum ha una struttura che viene accompagnata, di rialzo, che viene accompagnata dal minimo di novembre, da questa fase rialzista che però rispetto anche alla precedente, quella post merge eccetera, è stata meno incisiva. Quindi qui Ethereum ha una struttura probabilmente di ciclo annuale iniziato a giugno, che è complesso ragazzi, perché ha fatto un massimo nella prima parte, massimo a 2000 dollari, che però non ha raggiunto, non si è neanche avvicinato in questa zona qui, quindi nel precedente swing al rialzo, perciò è pericoloso, perché per la struttura dell'analisi statistica dei trend, quando abbiamo un massimo minimo, massimo minimo, quando abbiamo un massimo inferiore al precedente, c'è il rischio della inversione di trend di medio periodo nel caso di Ethereum. In questo caso Ethereum si sta chiudendo in una struttura cosiddetta a triangolo, che vedete proprio così delineata, ovvio che la rottura del triangolo che viene e deve essere indicato come l'unione di questi massimi, massimo di agosto con il massimo di qualche giorno fa, questo triangolo ci darà la risposta su un'eventuale fase di ripresa e di rimbalzo. Quindi Ethereum è sotto i miei riflettori per una fase di rimbalzo, ma solo ed esclusivamente alla fine di questo ciclo che, come sapete, stavo aspettando in questa settimana. Vediamolo, la settimana prossima potrebbe essere quella decente per iniziare a rimbalzare. Ancora, a dire la verità, nonostante i ribassi anche di Bitcoin non siamo arrivati ai target, però quando avverrà, sì avverrà ovviamente, questa fase rialzista, Ethereum è uno di quelle cripto che è sotto i miei riflettori, ma non andrò in buy the dip probabilmente su Ethereum, perché a meno di crash proprio consistenti, cioè di appoggi su questa trend line, quindi in questa zona che è molto bassa, deve fare un po' un ribassino notevole, e poi un'eventuale fase di ripresa, questa potrebbe essere l'unica zona accettabile di un buy the dip con un rischio bassissimo, quindi da immediatamente chiudere, perché se brecca questo livello di triangolo poi va chiusa in stop loss, però un'eventuale fase di rimbalzo dovrebbe poi andare a breccare questo livello. È molto rischioso Ethereum in questa fase ragazzi, a dire la verità c'è anche una teoria, la teoria del minimo di maggio, di cui magari parleremo probabilmente nei prossimi video, non mi piace tanto questa teoria, perché non si sposa con tante cose, però la andremo a vedere posto questa fase attuale, perché poi dovremmo vedere come rimbalzano i mercati, se ce la fanno o non ce la fanno, che forzano, e allora solo dopo vi dirò questa teoria del video di maggio. Ovviamente iscrivetevi se non vi volete perdere queste analisi ragazzi, quindi iscrivetevi al canale. Questa struttura di Ethereum è una struttura naturale, perché sta chiudendo il ciclo trimestrale intanto. Al momento sono 80 giorni, un po' pochino, probabile che tenti di allungare ancora qualche altro giorno, potrebbe farlo addirittura fino a tutta la prossima settimana. Questa è un po' la mia paura, sono sincero, perché se questo trend ribassista dovesse perdurare ancora per molti altri giorni, potrebbe essere un po' impattante, quindi effettivamente andare a fare una cosa del genere. Da lì in poi, quindi non ora, lo ribadisco, non ora, non stiamo vedendo crypto da comprare ora, intanto non sono consigli finanziari, io non danno mai consigli finanziari, mi raccomando ragazzi, tra le altre cose, state attenti agli scammer che vi scrivono a nome mio su Instagram, non sono io, io non scriverò mai a nessuno, moltissimi scammano, sto denunciando tutti questi scammer, fatto denunce alle varie polizie postali, eccetera, proprio per evitare questa cosa, è un problema risaputo di tutti gli influencer, non solo io, quindi mi raccomando, fate molta attenzione a non farvi frottare, quindi non sono, io non darò consigli finanziari né su YouTube e né in altri modi, quindi non fidatevi di chi vi scrive, non sono io. Allora, per quanto riguarda questa fase però ragazzi, bisogna attendere che la fase di bassista sia chiusa prima di ragionare, però in una fase di bassista chiusa, queste coin potrebbero essere interessanti, quindi Ethereum è assolutamente la prima. La seconda cripto è una cripto un po' di cui non parlo tantissimo, devo essere sincero, ne parlo poco, ed è Uniswap ragazzi. Uniswap ha un grafico interessante, che vi faccio vedere, che però è anche estremamente simile alla struttura di Ethereum, il grafico a ciclo annuale è stato disegnato così, quindi ho disegnato un ciclo annuale che dovrebbe andare proprio in chiusura, intorno a giugno, maggio, giugno, proprio nella zona minimo di maggio, avete un po' già un'idea generale, se guardate come effettivamente rispetta in maniera molto precisa quella che è la struttura proprio di Ethereum, questo significa che in pratica questa cripto ragazzi, potrebbe essere anche un faro, oppure Ethereum un faro di questa cripto, cioè essendo molto correlate come posizione, l'una probabilmente influenzerà anche l'altra, e questo potrebbe indicarci anche una strada da andare a percorrere con appunto la cripto successiva, la cripto diciamo relativa appunto, non quella che stiamo guardando, allora in questo caso per esempio, cioè quindi se il break lo fa per esempio Euni, guarderemo su Ethereum e viceversa, allora scusate stavo ragionando su un discorso, allora questa fase qui ragazzi, però ha già i giorni sufficienti, perché il minimo di Uni per esempio, vedete già è un minimo fatto il 9 di novembre, a differenza di quello di Ethereum che invece era un po' più in là, quindi su Uni in realtà il livello trimestrale già ci siamo, ed è sufficiente a chiudere tutta questa fase ciclica, perciò questo è interessante, perché potrebbe leggermente anticipare quello che poi magari Ethereum potrebbe fare più in là, quindi valutiamolo ragazzi, ancora non è detta questa cosa, perché siamo in una fase abbastanza particolare, vedete che qui comunque c'è stato un trading range pronunciato, c'è anche da dire che c'è un livello di resistenza molto impattante, che è anche molto facile da utilizzare, perché 7 dollari e 60 è un livello di resistenza per Uniswap, quindi breccato questo Uniswap si porta su questo livello, e magari testa i massimi, allora non è un granché probabilmente, però in termini di trend, in termini di ampiezza, però questo tipo di cripto sono anche un po' più semplici da tradare, quindi ogni tanto ci sta anche che andarli a guardare, per esempio già questo livello di 5 dollari e 80 potrebbe essere interessante, al di sotto invece di questi livelli di minimo, fuori tutto, perché non c'è nessun modo poi di recuperare un eventuale break di 4 dollari e 80, sarebbe un disastro anche per Uniswap, dal punto di vista ciclico resta il dubbio gravissimo, cioè questo ciclo annuale ha un massimo nella prima parte ragazzi, se nella seconda parte non aggiornano i massimi queste criptovalute qui, in questa fase, allora il ciclo diventa pericolosissimo, sarà tutto connesso poi anche alla logica se Bitcoin è iniziato un nuovo annuale o meno, però proprio in virtù di questo fatto, del concetto che, se in effetti siamo in un nuovo annuale per Bitcoin è probabile che queste cripto spingano un po' di più, potremmo avere magari più fase di alzista proprio, e anche per questo magari valutare un mini portafoglio cripto in una ripresa, a rischiarcelo, non così come si suol dire, per un eventuale plus che magari potrebbe andare a fare nuovi massimi su questi grafici, potrebbe essere interessante, nuovi massimi intendo al di sopra di agosto, quindi Uniswap rientra anche in questa fase, quali sono i livelli di price di possibile buy the dip? Io non lo faccio il buy the dip su questi cripto come sapete ragazzi, quindi io ve lo dico, sono trend follower, anche se ragiono in dip, aspetto comunque un'inversione su un time frame più piccolino, non il daily, magari il 2 ore, il 4 ore, però aspetto lì comunque un'inversione, se non avviene l'inversione lì non compro, a prescindere dal dip. Questa fase qui ha due livelli di supporto, il primo intorno a 580, e poi l'altro all'interno di 580 e 480, direi intorno ai 510, perché poi al di sotto di questo secondo me è troppo debole, quindi non è neanche un buy the dip, è il mercato che sta cresciando e basta. Passiamo all'altra criptovaluta ragazzi, una cripto a cui sono molto affezionato, perché è una delle poche che ho in portafoglio, per un esperimento di cui vi avevo parlato lo scorso anno, è vero si è dimezzata rispetto al mio acquisto, ma ha anche un farming molto forte, oltre il 60-70%, perciò in realtà sta reggendo molto bene il bear market, e proprio di questo ve ne parlerò quando finirà l'esperimento. Cake in questo caso è la cripto in questione, di cui qualcuno magari si ricorda, ne ho già parlato diverse volte. Allora Cake, stessa identica cosa, intanto vi volevo far notare anche come la similitudine ciclica delle criptovalute spesso è disarmante. Anche Cake sul minimo di giugno ha iniziato una sua fase ciclica, anche Cake ha un massimo in questa prima parte, c'era arrivato vicino proprio l'altro giorno a tentare di andare in break di questi massimi, cioè di avvicinarsi, non in break di questi massimi, ma non c'è assolutamente riuscita. Andiamo a vedere la struttura di ciclo che più o meno dovrebbe essere intorno a questa zona, quindi iniziare a aver chiuso diciamo o probabilmente intorno a dicembre o a gennaio. Andiamo a vedere anche la struttura, vedete infatti immaginavo la struttura, io mi posiziono quando ci sono cripto un pochettino più volatili come questa, mi posiziono in base alle close e non alle shadow. È una scelta, non è un obbligo, non c'è diciamo una regola generale per queste cose, ragazzi dipende un po' dai gusti personali, diciamo così. Allora, teoricamente bisognerebbe posizionarli in base alle shadow, però le crypto sono anche un asset completamente nuovo, quindi bisogna ragionare su tanti fronti. Questa struttura dice che a livello ciclico, anche su CAKE, siamo in fase di chiusura di un ciclo trimestrale, che però è cortissimo in questo caso, infatti siamo a 40 giorni, ragazzi, quindi in sostanza il trimestrale è lungo, dovrebbe volerci almeno 90-95 giorni, siamo in questa fase, probabilmente questo è metà del trimestrale, quindi una specie di mensile iperlungo, e basta ragazzi, oppure o sta facendo tre mensili fatti in questo modo, ma più o meno insieme a Bitcoin, molto simile a Bitcoin questa fase ciclica, questa dovrebbe essere la sua struttura, dopodiché potrebbe ricominciare una fase di uptrend, e proprio in questa zona potrebbe andare a breccare questo livello. Attenzione a CAKE, perché un break dei livelli di massimo potrebbe indicare un'accelerazione, che è interessante perché porterebbe al primo livello di resistenza, che sono 6 dollari e 80, quindi come vedete un po' di spazio di manovra, c'è ovviamente anche in questo caso è iper rischioso, vai dei dip, è un po' un terno all'otto, mi metto tutti i livelli di supporto, però in realtà vedete primo livello di supporto è questa zona che va, che è intorno ai 4 dollari, poi abbiamo 3 dollari e 50 questa zona qui, e poi infine 3 dollari e 10, ma lì siamo troppo bassi, attenzione perché se brecca questo livello non ce n'è più, si scende, e quindi secondo me lì poi non c'è nessun buy dei dip, però un'area di prezzo di questa zona qui potrebbe essere interessante per un buy dei dip, ovviamente io come sempre anche in questo caso, non lo farò diretto ma solo in versione di trend, oppure facendo una specie di micro piano d'accumulo proprio pezzo per pezzo, ok? Che mi piace, anche questa rientra, è la terza cripto che guardiamo oggi per un possibile fase di ripresa, poi andiamo invece alla più forte, una delle due più forti, che è Atom ragazzi, perché poi c'è l'ultima che è la più forte di tutte, quella più forte di tutte che, non ve lo dico, ma molti di voi probabilmente già immaginano, andiamo a vedere Atom, in questo caso Atom è abbastanza forte, la struttura ciclica di Atom è simile a tutte quelle che stiamo vedendo, ha un ciclo iniziato a giugno anche lei, e anche lì è lei come, che è andata vicina ai massimi di 17 dollari, perché si è appoggiato, diciamo intorno a 15 e qualcosa, qui vedete, quindi ok, Massimo, Massimo qui, non ce la fa, scende, vediamo dove finisce questa fase, perché poi il successivo fase, la successiva fase di rimbalzo, ha il compito di breccare questo livello, o comunque di avvicinarsi e fare un doppio massimo, prima di un'eventuale chiusura ciclica, quindi queste operazioni ragazzi, se vanno in porto, dovrebbero essere operazioni da tenere per marzo o barra aprile, quindi un mesetto e qualcosa, e questo tipo di operazioni potrebbero essere fatte proprio nella settimana prossima, quando il mercato si scaricherà, finirà questa fase ciclica, quindi è interessante, però solo in quei mesi poi ci sarà il compito, per queste cripto che sono state con un ciclo annuale abbastanza forte, interessante di andare a breccare questi livelli di Massimo, e ancora una volta, da un punto di vista ciclico per quanto riguarda Atom, non abbiamo una fase di ciclo facile, perché sembra un ciclo, una mensile che sia in fase di chiusura tra pochissimo, poi dovrebbe fare l'ultimo mensile, e andare a chiudere il trimestrale, appunto poi molto più in là a marzo, perciò ragazzi va assolutamente monitorata questa zona, entro un paio di giorni, questa è anche, anzi mi metto così, il 60 giorni classici dei due mensili, è anche molto simile a Bitcoin come struttura, che porterebbe intorno a lunedì martedì, questa fase di chiusura qui, dove sono i livelli di le aree di By The Deep, questa intera, tutta questa area qui è un'intera area di By The Deep, è molto profonda, però questi sono anche cripto estremamente potatili ragazzi, invece se rompe questo livello 11 dollari, se lo rompe, e lì diventa un po' problema, perché intanto è troppo basso, quindi scenderebbe troppo, sarebbe dagli attuali prezzi, secondo me è un semidisastro, e poi comunque ha un primo livello, che è a 9, 90, 10 dollari qui, ed è un livello di, non tanto di resistenza, quanto di oscillazione, è un classico livello di oscillazione, appunto up down, e poi invece si va giù al minimo di 8, quindi io dico che questa fase centrale, questa zona centrale qui, può essere una zona di By The Deep sempre a inversione, quindi intorno ai 12 dollari, raggiunti quei livelli, si potrebbe pensare a un eventuale By The Deep, se inverte il trend, e se non inverte, poi si lascia scendere fino a quando ce l'ha, però probabilmente, tenterà di abbandonare questo livello di supporto, quindi fate attenzione a questa zona, potrebbe essere estremamente interessante, anche qui l'obiettivo è quello di vedere poi, una fase di ripresso del trend, che va a breccare addirittura, questo livello qui, è quello che ci interessa ragazzi, cioè breccare questa parte up, attenzione che qui probabilmente, poi ci sarà la chiusura del trimestrale, quindi dovremmo andare a vedere, ultima Dulcis in fundo, la più forte, Critto in questo momento, che ha un trend completamente diverso dalle altre, che vi ho fatto vedere, perché ha rotto i massimi, della precedente fase del ciclo annuale, ed ha un uptrend delineato, anche se li ha rotti pochino, ed è Matic, Matic che è ancora continua, a proposito, io vi ricordo, che avevo un pack attivo su Matic, ed è ancora attivo su Matic, però c'è un piccolo, piccolo, piccolo problema, il pack è attivo, su FTX, con il Quantzone, quindi, lo sapete quanti Matic mi sono rimasti, ditelo a mente, va bene, ok, va bene, scherzi a parte, era attivo quel pack, che però è andato in fumo, con i, diciamo, il crash di FTX, e va bene, è andata così, e quindi, poi non l'ho rifatto, vi dico francamente, però, ci sono sempre affezionato, perché per me, la struttura, chi di voi l'avesse fatto, mi avesse seguito, con quel pack, doveva continuare a farlo, perché Matic ha performato benissimo, e devo essere sincero, è stata la coin migliore, e in termini anche del fatto, che sia una delle più grandi, ragazzi, non in termini di, app, app, perché alcuni hanno fatto meglio, però, questa è una cripto molto grossa, molto importante, con dei progetti importanti, dietro le spalle, che chiude accordi, quindi, comunque, un po', no, sta facendo, sta dando filo da torcere, anche, a Ethereum stessa, forse, in questa fase, è un po' più, sulla crescita dell'onda, allora, andiamo, a ragionare, su questa struttura, e, già si vede, che per esempio, è, come vi dicevo, superato, il massimo, della precedente fase, del precedente ciclo semestrale, questo è molto interessante, quindi, nuovo annuale sempre da qui da giugno, semestrale che fa l'app, pochi giorni fa l'ha superati, questa è una cripto che si deve continuare a seguire in trend, al momento siamo a 39-40 giorni, probabilmente sta facendo un ciclo come quello di Bitcoin, un po' da 44-45 giorni, un po' più lungo, e, da lì in poi, si può tentare un nuovo buy, in questo caso non è un buy in the dip, ma è un trend following in pratica, perché la cripto dovrebbe continuare, potrebbe continuare a fare ancora nuovi app, attenzione però che c'è un concetto qui da ricordarsi, cioè le fasi di app di Polygon sono, le resistenze sono un po' frastagliate, perché tutta questa zona sopra i 1.4, questa zona qua, 1.4 dollari, fino addirittura a 2 dollari, è piena zeppa di resistenze, cioè in pratica è tutto rumore di fondo, perché qui abbiamo tutta la fase di oscillazione, che a livello volumetrico, se mi metto il famoso indicatore che piace tanto, quello con le spunte volumetriche, che ovviamente ha tanti volumi solo nelle barre di congestione, poi un giorno magari ne parliamo, e quello lì ragazzi si riempie proprio in questa zona, quindi qui avrete una serie di livelli di resistenza, quindi qui può fare molto rumore, per nulla direi, per cui attenzione, perché mentre le altre potrebbero avere un app potenziale maggiore di Polygon, Polygon è vero, sì, è in trend rialzista, però potrebbe avere un app potenziale su un'eventuale fase di ripresa, non troppo pronunciato, questo è concettualmente il discorso. Allora, a livello di supporto per i buy, in questo caso, c'è un dollarone, che è il super livello di supporto, e poi ci sono dei livelli di supporto intermedi, che sono tipo un dollaro e quindici, questa zona qui, che potrebbe essere facilmente raggiunta, perché qui, insomma, c'era quasi arrivata anche oggi stesso, tutta quest'area potrebbe essere una zona di buy the dip, sempre attesa di inversione, di trend. Va bene, detto questo, abbiamo visto le 5 cripto, che potrebbero essere estremamente interessanti, per un rimbalzo nei prossimi giorni, quali sono le vostre, cosa vi piace di queste cripto, quale stavate già tenendo sotto controllo, vediamo se entrerà qualche operazione del genere, perché ho intenzione di farlo anche io, e mostrarvele sul canale. Va bene, ciao a tutti, e buon weekend, ciao!